Il Parma domani alle ore 18 sarà in campo a Carpi per l'ultimo test prima dell'inizio del campionato di domenica 31 agosto a Cesena. Non è escluso che possa raggiungere in extremis la cittadina modenese anche Francesco Lodi, il regista del Catania che di fatto è un nuovo giocatore crociato. Tuttavia, in proposito, è più probabile che l'ex rosso-azzurro si aggreghi ai nuovi compagni nella giornata di lunedì. L'accordo è stato raggiunto ieri sulla base del prestito con il Parma che si è impegnato, come già anticipato nell'edizione del nostro telegiornale ieri sera, a riscattare interamente il cartellino a giugno 2015. Ma attenzione, la società del presidente Ghirardi sta lavorando anche per l'innesto di un altro centrocampista. Il nome non è nuovo, stiamo parlando di Walter Gargano in esubero dal Napoli. Il club partenopeo sarebbe disposto a dare una mano a quello giallo-blu dal punto di vista economico pur di sfoltire la propria rosa. Ecco allora che con il trio Gargano l'odia qua, la mediana ducale si presenterebbe come una delle meglio assortite della prossima Serie A. Resta però vivo l'interesse anche per il trequartista Nicola Bellomo del Chievo, mentre la circolazione del nome dell'esterno destro della Juve Simone Pepe sembra in realtà una mossa strategica per far abbassare le pretesi interiste relative a Schelotto, vero obiettivo del Parma. Per quanto riguarda infine Ruben Botta da segnalare che sull'argentino dell'Inter è passato in vantaggio il Torino, anche se occorre precisare che l'interesse del Parma non è mai stato particolarmente concreto. Tutti gli aggiornamenti sul mercato disponibili anche sul nostro sito internet www.teleducato.it